buongiorno oggi sono venuto qui per trovarmi questo bel paninone frussella e patatina e provola sempre dalla rossicceria imperatore e oggi me lo degusto davanti a voi me lo mangio prima e poi dopo vi dico di come sto panino ciao a dopo e beh ragazzi il panino era buono era proprio buono non ho potuto fare anche il video mentre mentre me lo mangiavo perché era appena sfornato e preferì preferivo mangiarmelo in un attimo prima che si era affettato il panino di imperatore alla presta era proprio buonissimo e praticamente io non sapevo che faceva anche panini la presta l'ho saputo e me lo sono andato a provare era proprio buono soprattutto proprio perché poi dall'altro a me solitamente mi piace sempre a base solitamente sono tarato fisso a prenderlo sempre a base di piusse le patatine però c'è qualche volta che posso variare però è che posso prendere sempre a base di piusse le patatine anche con la pizza per esempio ve lo consiglio bravi non direi così ciao a tutti noi ci vediamo al prossimo video ciao